Buonasera amici dei Senza Giacca, siamo qui con un personaggio molto noto a Pesaro, Davide Ippaso, grandissimo tifoso del Toro, lo avete riconosciuto tutti. Davide, il tuo passato nei fedelissimi Granata e Granata Corps, ci racconti qualcosa al volo? Beh, è una cosa, fa parte della mia vita, è la mia seconda pelle, forse la prima, diciamo dai, è la mia grande passione, è una fede che mi è stata tramandata da quando ero bambino, adesso ho ancora il babbo che ogni giorno me la ricorda e vivo il calcio in questa maniera. A Milano hai lasciato tre punti però? Eh, a Milano ho lasciato tre punti, ma forse nel primo tempo potevano lasciarne anche a zero, cioè praticamente ci hanno massacrato il primo tempo, il secondo tempo abbiamo recuperato noi, diciamo forse anche per demerito dell'Inter che si è ammosciata. Ti aspetti l'Europa League o qualcosa di più? No, mi aspetto l'Europa League, me l'auguro di cuore perché sarebbe una gioia immensa di andare in giro per l'Europa con questa bellissima maglia addosso. Allora saluto tutti gli amici di Senza Giacca e ragazzi mettete un like sulla loro pagina Facebook. Grazie Davide!